Musica Amici sportivi, tifosi del Mare, ben ritrovati al nostro appuntamento col bianco e rosso Il Bari è già in crisi, crisi di risultati ma una crisi anche di gioco, non è il caso di fare un dramma perché comunque siamo ancora alla quinta giornata e comunque il Bari qualche punto l'ha racimolato però è chiaro che in questo momento si fa, dopo il secondo tempo in particolare della gara contro la Nocerina si fa un gran discutere su alcuni argomenti, c'è chi punta l'indice verso Torrente, per me è sbagliato perché non si può mettere in discussione un allenatore che ha preso una squadra completamente nuova dopo 5 giornate e chi fa altre valutazioni, però oggi abbiamo davvero il massimo perché in trasmissione ad analizzare un po' il momento del Bari c'è l'ex bianco-rosso e attualmente opinionista di Sky, Antonio Di Gennaro Ciao Antonio, è ben ritrovato Subito Torrente, che ne pensi? È giusto o no metterlo, come si suol dire, in gergo sulla graticola? Ma il problema di Bari sono giustati con la condizione della squadra è normale che abbiano sentito e l'hanno detto un po' tutti che questa squadra è stata allestita in maniera molto velocemente alcuni giocatori sono arrivati in ritardo sono giustificazioni che ci possono stare però il lasso di tempo ovviamente per una società, per una squadra e per una tifoseria come il Bari dopo una processione sicuramente non bella come l'hanno scorso non viene dato molto a questa valutazione quindi è normale che abbia bisogno di tempo anche lui sta cercando di trovare il modulo giusto che ha cambiato molto e bisognerà vedere se i giocatori che lui ha richiesto li hanno presi tutti perché sai a volte succede che l'allenatore ha un progetto di gioco e i giocatori magari fa un elenco di giocatori e poi ne arrivano altri Allora, tra poco apriamo le telefonate anzi forse possiamo già aprire alle telefonate allo 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta telefonica su Telebari, Radio Bari oppure attraverso il sito www.radiobari.net La posizione di Torrente secondo voi è da mettere in discussione, sì o no? C'è già un amico in linea, pronto? Buongiorno, Antonio Saluto il grande Antonio Di Gennaro Niente, secondo me non è proprio da mettere in discussione Torrente perché alla fine penso che non abbia avuto tutti i giocatori che ha chiesto Tant'è vero che abbiamo avuto possibilità di prendere anche attaccanti svincolati come Corradi che la società non so per quale motivo non vuole prendere anche se sarebbe disposto a scendere di categoria perché se vediamo alla fine quello che manca al Bari è proprio un attaccante E quello che manca al Bari è un attaccante o c'è altro che manca al Bari? Perché in questo momento sta venendo fuori un'altra lacuna vistosa accentuata dal fatto che a centro campo si è data qualità, vero presunta con Donati e Bogliasino ma probabilmente manca chi fa legna il classico interditore che per tanti anni a Bari è stato Gazzi credi che sia anche questo una lacuna o no? Guarda che Donati sta giocando in un ruolo magari nuovo per lui l'ho anche dichiarato e si è assunto anche le responsabilità della non bellissima partita che ha fatto l'ultima Conocerina Per quanto riguarda Bogliasino è un giocatore tecnico De Falco non è che proprio a grandissima diciamo così più anche lui giocatore di interditore una mezzala che poi è arrivata al tiro quindi diciamo che dal punto di vista così è allineata abbastanza bene manca la condizione fisica come hanno detto anche il tecnico soprattutto nel secondo tempo e questo insomma è un dato importante perché la Serie B sappiamo che la condizione fisica la determinazione è fondamentale manca l'attaccante d'altronde è una squadra che vuole arrivare a playoff come hanno dichiarato i dirigenti è normale che deva prescindere da un giocatore che possa arrivare in doppia cifra sono arrivati i giocatori che hanno giocato in C lo stesso Caputo è un giocatore che ha fatto la Serie B ha fatto la Serie B col Siena però è la Serie B col Siena corrente alternata e non sono dei goliadori non sono mai stati quindi diventa difficile per loro hanno bisogno di tempo De Paola è una seconda punta ma si sta scoprendo uomo goal l'ultimo ha fatto da centravanti con Defendi arriva sta cercando di trovare il bando della Matassa anche in difesa che era quella che all'inizio dava più garanzie e sta subendo goal quindi tutto è complesso è normale che la squadra si iniziano con il portiere la linea centrale portiere, centrale, difensivo regista, attaccante da 20 gol e si prepara la squadra non so se hanno avuto tempo i problemi economici i problemi di iscrizione situazioni condingenti dato di fatto che Marotta Caputo Forestieri De Paola di Menealti degli attaccanti la Serie B insomma è dura si fa un po' fatica c'è un amico in linea pronto? ciao Enzo sono Mimmo D'Abicelle saluto l'ospite domande al nostro ospite visto che no senti non mi interessa perché qui c'è un problema più grave qui c'è il problema della società di Matarrese questo ci sta prendendo solamente in giro ma noi stiamo parlando già di torrente di giocatori poi il problema serio è la società basta farci prendere in giro perché noi quest'anno rimarremo in Serie B e il prossimo anno quel signore non farà neanche l'iscrizione perché quest'anno ha avuto 15 milioni di euro il prossimo anno che soldi deve prendere? che soldi deve prendere? è un problema è un ulteriore anno perso questo ecco perché forse era meglio ripartire già da quest'anno con una nuova società è un nuovo programma perché Bari merita tutt'altro di questa cosa brutta che stiamo vivendo grazie per il tuo intervento sai che sul come dire sull'idea che qualcuno rilanci il calcio a Bari sottoscrivo per tutta la vita credo che ormai la gestione attuale sia come un limone spremuto completamente spremuto che non ha più diciamo né voglia né capacità probabilmente di esprimere ancora del succo buono io sono convinto che ormai io credo l'abbiamo avuta però la possibilità quando dopo anni di delusione di scoramento con Conte si è creato veramente i presupposti per avere un gruppo uno staff di lavoro proprio in prospettiva di arrivare magari a un sogno europeo bisogna vedere se c'è questa volontà se c'è mai stata bisogna vedere adesso se c'è la volontà di continuare è normale che poi sono successi problemi economici però anche lì il discorso è lungo ci sarebbe da fare forse non basterebbe neanche una puntata credo comunque io lo dico spesso in trasmissione dopo che si è perso quel treno che poteva essere il treno giusto per assecondare i sogni dei tifosi io davvero ora non ho più speranze devo dirlo con molta franchezza te ne ho parlato qualche volta anche in privato non credo più insomma in qualcosa che possa in qualche modo soddisfare io ieri parlavo anche con Guido Angelosi si parlava del Napoli il fattore Napoli un'altra città magari anche molto più grande di Bari però dal punto di vista così del pubblico della disponibilità dell'affetto della passionalità del cuore che mettano per la propria squadra credo siamo abbastanza vicini a Napoli sono ripartiti dopo un fallimento e De Laurentiis ovviamente situazioni economiche importanti anche lui credo ci ci abbia messo anche la passione però io credo che non bastino i suoi soldi qui si parla sempre di soldi ma ci deve essere anche collegato un senso di passione di partecipazione di coinvolgimento che possa poi coinvolgere tutti di ambizione ambizione non vuol dire essere magari esaltazione ambizione vuol dire che uno prende una squadra perché gli piace il calcio perché sicuramente un'azienda vuole anche avere degli utili e questo è normale però si lavora in prospettiva che possa durare che si possa crescere piano piano proprio in virtù di dove siamo cioè Napoli è un bacino di utenza fantastico Bari non credo che sia da meno ripeto un 20% e meno però rimane lì bisogna che ci sia la volontà forse non c'è mai stata ma non è una critica è un fatto proprio di soggettivo che magari la famiglia Mataresi chi lavora per loro non ha mai avuto questa mentalità di dire questo scatto anche di come interpretare di come magari arrivare come sono arrivati con Conte sono arrivati alla Serie A era lì il momento di investire ma non soltanto a livello di calciatori di contratti io lo dico da tantissimi tempi ormai il calcio è questo bisogna investire a livello di settore giovanile di settore di un centro sportivo uno deve avere le basi di lavoro di uno stadio nuovo avere queste idee ecco di quando parlavo poi di avere una simbiosi anche con le istituzioni con tutta la tifoseria cioè io vedo uno scollamento c'è sempre stato questo scollamento con la tifoseria con le istituzioni è come se comandano loro però non si sono mai come posso dire aperti aperti gli altri non hanno avuto mai il consenso di tanti fermati un attimo pubblicità poi torniamo insieme con il bianco e rosso tv sport con il bianco e rosso con il bianco e rosso